Sì, cerchiamo di allenarci al meglio e di farci trovare pronti per questa domenica. Non abbiamo sicuramente staccato la spina e non vediamo l'ora di ricominciare. Sì, adesso direi che siamo, tranne Tiziano, Tulisi e tutti quanti a disposizione ed è una cosa molto positiva. Il gruppo si conferma essere forte e unito per affrontare i play-off. Sinceramente no, uno vale l'altra, spero solo che il Modena sia pronto e determinato ad andare il più avanti possibile per regalare un ageno stessi alla città e ai tifosi. Certo, c'è curiosità perché comunque alcune formazioni non le abbiamo mai ne viste, ne incontrate, quindi diamo un'occhiata. Però, ripeto, il nostro più grande avversario può essere solo il Modena, noi stessi. Dobbiamo solo rimanere concentrati e determinati e affrontare queste partite con grande carica. È un bilancio discretamente positivo. Penso di aver dato una mano alla squadra, come hanno dato tutti. È normale ambire a fare sempre meglio, quindi spero di dare un apporto importante in queste ultime gare. Grazie a tutti.